Ciao a tutti, qua sono Enrico Sesselego, sono in tour bus nel pieno mezzo della Germania dell'ex blocco orientale. Sono in tour con Paul Gilbert come front of the house. Siamo più o meno a un terzo del tour, ci mancano un po' di roba. Voleremo anche a Tel Aviv, anche in Russia, però prima abbiamo un sacco di date qua in Italia. Nel frattempo, quando sono dei day off come oggi, il mio computer e un po' di lavoro, come sentite, controllando alcune batterie, alcuni bassi e soprattutto le mie high loud. Me le porto sempre con me, adesso le ho scoperte e mi accompagnano sempre nei viaggi. Posso riuscire ad ascoltare un po' di roba, fare un po' di lavori, a parte editing, ma anche degli ascolti. Chiaramente mi sono dovuto abituare, però è un sistema assolutamente perfetto, compatto, leggero. Lo porto nel mio trolley a mano e lo monto in due secondi. Quindi niente, grazie Aikimutimedia. Della Germania è tutto, ci sentiamo presto. Ciao!